Buonasera a tutti e no 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 non t'ho visto non t'ho guardato no 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 non è vero non è vero non è vero L'ho visto male puttana carina no 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 non hai visto bene non hai visto bene no 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 Scherzavo scherzavo non t'ho guardato si è calmato? Sto cazzo che si è calmato vai nell'acqua vai nell'acqua vabbè Buonasera a tutti e benvenuti bentornati di nuovo nella scaia wason wow e sono come cazzo si chiama avete visto già ho perso una spada me l'ero appena Craftata e piccone infatti non ho più o che c'è di o meno 24 giù sopra E niente Sono tornato di nuovo qua nella mappa poi alla fine alcuni di voi piace a me piace e allora ho deciso va torno e buonanotte Ho due premesse ma solito perché se non faccio una premessa io non sono contento Allora ho costruito lassù Quello severa vedi givate un blocco di fogli di quercia per 64 lingotti d'oro Va bene ho deciso di farlo E Alcuni di voi hanno detto che va bene dicono davis è forse un po' esagerato e io con sti cazzi ormai ha detto così e mi attacco al tram Cosa succederà quando avrò questi 64 blocchi li butto nel vuoto nella lava decido clicco il bottone mi dico un blocco Ok semplicemente ho fatto sta cosa qua non so come ci arrivo vabbè ci metterò due gradini sti cazzi però ho deciso di farlo Lassù così ho praticamente messo una missione in più da fare questa probabilmente sarà la piuttosta La piuttosta di tutte però io mi odio quindi va bene ci sta Un'altra cosa mi ha detto di fare mi hanno detto di provare con un blocco di betulla magari funge Vabbè ci posso anche provare eh posso provare assolutamente Ho dei dubbi più che altro perché c'è scritto proprio foglie di di come si dice di di quercia Può darsi che funzioni se funziona basta che cavo qualcosa lassù e buonanotte mi si infatti avete visto Mi son messo in creativo ho fatto anche qualche prova per vedere se andava e ciao Cioè vi faccio proprio vedere che me l'ho messo in creativa infatti se vado a vedere C'ho la lana aperta ve lo dico proprio sinceramente l'ho fatto in creativa ovviamente Perché ve l'avevo chiesto me lo sono concesso Infatti se vai a vedere c'è il blocco di command block Un'altra cosa io ringrazio leon come si chiama leon x88 perché veramente mi ha dato un aiuto Mi ha detto che i mob non muoiono a 21 blocchi ma muoiono a 24 Ok per esattezza i mob come zombie e scheletri rimangono con mezzo cuore Mi pare mi pare Cadendo da 24 blocchi e allora l'ho fatto a 24 Infatti l'ho dovuto abbassare ma guardate un po' quanto cazzo funziona bene Cioè è da un po' che l'ho accesa guardate Madonna Madonna se funziona bene Guarda tra un po' ho finito di fare la gunpowder Qui invece c'è la cosa un po' più Si è morto un creeper con uno scheletro quando ancora sopravvivevano E mi ha droppato un disco musicale Va bene Me lo cerro per ricordo Vabbè Comunque Adesso guarda sinceramente voglio provare a fare quello che dici di te Cioè il blocco di betulla Quindi Quindi niente Devo rifarmi di nuovo un altro piccone Perché sono deficiente Sono deficiente Come ho detto l'altra volta qui ci devono essere dei blocchi di ferro Andiamo a pigliarli perché mi torneranno Oh ma ci sono scarso Ok deve essere uno qui Aspetta Forse è uno giù Aspetta posso andare uno giù può darsi Oh putta Allora Ehm È vero c'era la lava C'era la la Non provare mica a bruciare te C'era la lava È vero è vero è vero Cazzo Non la voglio perdere la lava perché Non so come potrei mai riprendermela Quindi voglio stare attento a non perderla Però allo stesso tempo voglio Tac Sopravviverci perché non mi dispiacerebbe restare vivo un altro minuto in più Ehm È qua sotto Eccolo là Guardalo lì di fame Guardalo lì di fame Se mi sei anche in un test infame Fammi prendere qualche slab Vediamo un po' di prendere Me ne bastano anche solo due Un po' di slab Ce le ho già Che Siamo anche più precisi Allora 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 Ma io sono veramente un deficiente Cioè Vabbè Ok Ci siamo Olè Vediamo di non ricrepare di nuovo come dei deficienti Oh ma che deficiente Sai cosa Mi si vedi Mi sono bugato qua nelle liane Io ho fatto il cretino Ok Vedi Era una cazzata Sono io che sono buono di far niente Sono sceltato Sì sono sceltato Allora Vediamo ben bene di non crepare Vedi Trova la lava che si scoccio Sgoccio Sgoccio L'erovio Pè Perché No Davvero Perché 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 Tutto quest'odio nei miei confoni Cosa avevo fatto di male Cioè cosa ho fatto di male Per avere così tanta scaronia Cioè veramente Vabbè Punto Cioè proprio tu non devi cadere mai Nella vita Ma è capace di cadere anche di qua Me ne frego Io muro Io muro Perché non deve cadere neanche se paghi Io muro Oh adesso non deve cadere Oh Eh Quanto semplice Tanto sono io che mi Mi piace complicarmi la vita Non c'è tanto che tiene Sì tecnicamente con quella roba come sono tu potrei finirla questa Lo so anch'io Perché io ho già detto Mi odio Quindi Sti cazzi Allora mi prendo qualche blocco Di legno Eh Aspetta che li faccio così perché Ho porno di prenderne troppo Se no Là Ah beh che tanto ho gli alberi Eh per l'amore di Dio Ne ho Ne ho quattro Quindi qua Faccio fatica a non rimanermi Stavolta Giammo Shelly Me l'avete detto voi Di provare Quindi se perdo due blocchi Cioè due lingotti È colpa vostra Sappiatelo Già ne ho perso uno Per colpa Quella è colpa vostra Ricordatelo L'avete sulla coscienza Ok Proviamo No Magari Mi dispiace Come ti chiami qua Matto Non funziona Non funge Hai visto anche te Ho provato in diretta Ho anche pianto Perché ho perso un coso di ferro Cioè Ho pianto in diretta Quindi No Non funge Non funge Devo proprio fare come ho detto Quindi sono un matto Da legare Allora Quell'isola l'ho raggiunta Intanto che la mob farm Va avanti Ad A Briciolare i mob Volevo Andare comunque La 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 Insomma volevo andare un po' Nelle varie zone Così funziona Allora 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 Una sfida che non vedo l'ora di fare È quella di Perché a me piace Catturare i villager zombie E trasformarli Cioè Perché infatti Una delle missioni È quella di Curare Un villager zombie Sarà una cosa Molto 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 È complicata In survival Normale Pensate Nelle skyblock Quanto può essere Infame Una missione Del G Madonna Mi so spaventato male Ok Voglio evitare di perdere anche la terra Perché la terra è utilissima Potrei fare qualche semino Magari fortuna stavolta Oh Un semino Perfetto Perfetto posto Due semini Ma mi va benissimo Mi va benissimo Cioè tre semini Posso sono felice Quattro Posto Fammi andare là A prendere quella cazzo Di cesta Dai Non mi basta Nel blocchi Non mi basta Mai Non ci voglio credere Ma non ci voglio credere mai Mai nel Io faccio delle A volte faccio tipo Scarpiati E sopravvivo tipo Miracolosamente Minima Voglio andare davvero Vedete È efficiente Grazie per il consiglio Perché Lo immaginavo comunque L'avevo L'avrei già fatto Sinceramente Ho aspettato Che uscisse L'episodio Tanto Tenervi Aggiornati Però lo immaginavo Che il problema Era solo Perché era basso Tu Non 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 Risponere Di sopra Non Oh 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 Ma che sto Ma che strozzo Non so Ma vuoi morire Oh Ma che figlio Di quello che dico Io Non si sa Mai facciamo Così Un blocco D'ossidiano Un blocco D'ossidiano Io prendo Io lo prendo Cioè sti cavoli Di sicuro serve Che l'ossidiana Si fa solo con la lava Quindi non posso correre Si fa solo con la lava Se sopra la lava Ci butti l'acqua E la puoi prendere Solo con un piccone In diamante Quindi io direi Che l'ossidiana Qui è utilissima Oh No non ci credo È proprio il villager Quello che mi serve Quello dai Quello che potrebbe essere Un farmer Dai Questo lo spawna Cioè non ho Ho le mele Manco le mele Mi sta venendo un dubbio Ragazzi mi sta venendo un dubbio Le mele spawnano solo con le querce Che se vanno spawnare solo con le querce Per me È impossibile Finirlo qui Cambio la cosa da questa E metto E metto la piantina Eh sì ragazzi Purtroppo Potrebbe esserci una piccola svolta Nella serietta E io ho appena scoperto E visto che il video durava Più di 25 minuti Ho deciso di ZACK Tagliarlo a metà E quindi adesso Che l'episodio delle due e mezza Uscirà Alle sei e mezza Uscirà la seconda parte Quindi spolliciate Fate vedere che vi è piaciuto Questo episodio E niente Direi che per adesso Ci rivediamo alle sei e mezza Possiamo dire che è Finita Che pedino Che pedino Grazie a tutti